Oggi ho invitato tutti alla mia festa Adesso entriamo in questa festa Ciao ragazze, entrate pure! Ciao! Uh, mi metto dentro queste cose Entrate Uh, vai ragazze, balliamo! Uh, 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 uh Che bello! Uh, eh già, è bellissimo Che divertimento! Ragazze, volete qualcosa da bere? Guardiamo un film ora Aspetta, dobbiamo festeggiare Vero? Uh, uh, uh Certo che voglio fare un selfie Ok Aspetta Sì, vai Aspetta Uh, uh, uh Uh, uh, uh Cheese 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 Come siamo venute? Come siamo venute? Fa vedere Bellissima, bellissima Oh bene Che bella Sono contenta Beh, ciao Lara Bellissima festa Grazie, grazie Però devo andare Se faccio tardi i miei genitori mi ammazzo Anche io ciao Lara Ciao Ciao Sofì, ciao Kate Ciao 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 Ok Ehi, ciao Chi è questa? Buongiorno Buongiorno Che mi sembra Che mi sembra molto grande Molto maggiorenne Sì 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 Devo fare un esame Proprio La prossima settimana Sì Perché? Allora perché stasera Ho fatto una festa con le amiche? Perché volevo divertirmi Volevo divertirmi Scusi Signora Ma io Ma io Io Voglio giocare con le mie amiche Fare festa Mary 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 Ecco qui Li metterò un bel pacco qua Davanti casa sua Li metto un pacco proprio qui Allora Mi prenderei Io andrei qua davanti Alla casa della sua amichetta Anche qui In questa casa Prendiamo qui Adesso Metto L'ultimo pacco Per la sua altra amichetta Ecco Qui Messo Brava Oh c'era questo pacco L'ho preso Ok Dopo io lo farò vedere Alle mie amiche Oggi ho voglia di stare un po' Con le mie amiche Potremmo organizzare Un pietro party Sento se stasera Possono fare un pijama party Ragazze Pronto C'è qualcuno? Sì Ehi Kate Ci sono io Laura Che c'è? Ciao Laura Volevo chiederti Se stasera Sarei per un pijama party Sì Io ci sono Ci vediamo dopo Ciao Adesso mi chiamo Sofi Ecco qua Sofi ci sei? Sì ci sono Ciao Un pijama party Ciao Kate Ciao 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 Tutto a posto? Posso farvi una domanda ragazze? Quale? Io Stamattina ho trovato Un pacco davanti A casa mia È normale C'è scritto per Lara Anch'io Guarda Ce l'abbiamo tutti uguale? Non sarà una coincidenza Magari c'è inviato la stessa persona Non so Apriamo cosa Vediamo cosa c'è dentro Eh già Apriamola Ragazze Una bottiglia d'acqua dentro Sì Sì Perché non beviamola? La beviamo? Sì Beviamola Ho molta sete Sembra buonissimo Ragazze Scusate Ma Che ore sono? Boh Sono le sette di mattina Come? E ti guardi da lavoro? Io devo andare al lavoro Oddio Oddio Devo andare subito Mi sentiranno Cavolo Andiamo Io devo rinuovere Più che si può Vado Ok Sono arrivata Abbiamo tutti qui In cella Uno E due Perfetto Ah come era bello Essere piccoli E teenager Vorrei tornare a quei tempi Ok Posso anche aprire il negozio Però prima devo controllare Se ci sono tutti gli ingredienti Oh no Manca il latte Manca la carne Manca tutto Devo andare al supermercato Ecco la lista della spesa Andiamo Allora prendiamo il carrello Ciao Sofì Buongiorno Ciao Allora mi servono Ok ho preso tutto Ciao Sofì Ciao Cosa vuoi pagare? 10 euro Poco Ok ti pago In carta di credito Ok Oh grazie Mi dai la busta Per favore? Eh sì Tieni Ok grazie Prego Mi mancano i vecchi tempi Che ore sono? Oh no è luna Adesso arriverà una maria di gente Sarà una fatica A prendere tutti gli ordini Vorrei tanto tornare nel passato Quando ancora non lavoravo Facendo le feste con le mie amiche Oh che fatica lavorare Vorrei tornare nel passato Anche io Anch'io Ci vorrebbe una pozione Che ci fa diventare Giovani come prima Per sempre È vero perché Forse È un sogno Tornare giovani E fare le feste insieme Vi ricordate Che bei tempi? Sì Che bei tempi Beh Ragazzi Io non posso dormire molto Quindi l'unica L'unica ora che posso riposare È questa Vado a casa ragazzi Ciao Anch'io Ciao Ci vediamo Ciao ciao Ci vediamo Beh direi che hanno capito Che serve studiare Sino si fanno dei lavori Molto brutti E faticosi E hanno capito Che essere adulti Non è semplice Quindi posso anche dargli La pozione della giovinezza Così torneranno normali Adesso rimetto il pacco per Lara Ecco qua Davanti la sua porta Ecco il pacco per Sofì Ok Suoniamo a casa Suoniamo C'è qualcuno Oh ciao Sofì Ciao Lara Ciao Avete anche voi questo vero Sì Era davanti a casa nostra Beh apriamolo Eh già Oh C'è questa bottiglia Mi ricordate? Sì Io mi ricordo Sì Quella che avevamo da giovane Ok Beh Bebiamola no? Sì Oddio Ma siamo stati giovani Come eravamo prima Che bello Che bello È il mio sogno Sì Che bello Ma adesso non è più il mio sogno Che bello Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E mi raccomando Comprate la maglia Che ha la Mary Costa 5 euro Eh già E volete la mia amicizia Mi chiamo Coco1990 Coco1990 E invece se volete la mia Si chiama Snagapuz 120 2023 2023 Ragazzi Ci sarà un nascondino Non sappiamo precisamente quando Forse dove lì Però vi informeremo E ragazzi Se volete la parte 2 Arriviamo a 10 like E faremo la parte 2 Eh già Ciao 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 Ciao